Oggi dati invariati sui contagi in terra e blea rispetto a ieri e nessun decesso. 437 è il numero dei positivi attualmente in provincia di Ragusa, di questi 419 a casa in terapia domiciliare, 11 ricoverati al Giovanni Paolo II, 5 in RSA Covid e 2 in foresteria. Come si diceva, nelle ultime 24 ore non si registra inoltre nessun decesso. Restano quindi da inizio pandemia ad oggi 377 le vittime per Covid. E' proprio la provincia eblea è la meno colpita dalla diffusione del virus rispetto alle altre siciliane. Nell'isola infatti sale la curva dei contagi con un aumento sia di ricoveri ordinari ma anche di ricoveri in terapia intensiva. Vediamo ora i contagi per comune in provincia. Sono 9 positivi ad Agate più 2 rispetto a ieri, 3 sono a Chiaramonte, 47 positivi a Comiso, 20 a Giarratana, 13 a Ispica, 96 a Modica che scende di 8 rispetto a ieri, 10 a Monterosso, 48 a Pozzallo, 145 a Ragusa più 11 rispetto a ieri, 5 a Santa Croce, 7 a Scichili e 16 a Vittoria. E intanto è di poche ore fa la notizia della quarantena scattata in una classe dell'Istituto Superiore Curcio di Ispica a causa della positività riscontrata di alcuni studenti. A distanza di 5 giorni dal primo caso pare che ne siano stati trovati altri 3. Appena ieri era tornata la normalità invece con la lezione in presenza in una scuola di Modicalta, la Piano Gesù, rimasta chiusa per giorni a causa di un mini focolaio. Il virus infatti circola soprattutto tra i più giovani, come emerge dagli ultimi dati a livello regionale, e per questo prosegue la campagna vaccinale, arma indispensabile nella lotta al virus. Domani, di fatti, una giornata sarà dedicata alla vaccinazione di pazienti oncologici e dei familiari. Si tratta del secondo appuntamento al Maria Paternoa Rezzo di Ragusa, attivo dalle 8.30 alle 13. È un modo questo per favorire la vaccinazione delle fasce più deboli e che potrebbero riportare tragiche conseguenze e che per questo saranno seguiti anche nella vaccinazione da esperti. In Terreblea sono state somministrate complessivamente da inizio campagna quasi 517.000 dosi, 250.000 circa per prime dosi, 230.000 per seconde e 36.000 per richiami.